Sì, e che altro sai di me? Che sei piena di amici e la sera esci, qualche volta. Vostro figlio Simona ha avuto un incidente. Cosa sia questo cuore umano? Dall'istante in cui ha cominciato a battere più forte, alla nascita nessuno lo sa davvero. È quella notte, in quell'istante. Grazie a tutti.